Martedì 9 gennaio, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Cristal Radio, ben ritrovati a Good Money Milano, sono le 7.08 Buongiorno, buongiorno, martedì 9 dicembre Già gennaio, gennaio, gennaio Siamo già a gennaio, per fortuna Per fortuna di tutto il resto Eh ma perché sapete che io sono, essendo grande fan del Natale, io spero che ogni fine mese ricominci dicembre Ti ricordo che esiste un posto dove tutti i 25 del mese festeggiano il Natale, un albergue mi sembra, una città se non mi ricordo bene Però dove tutti i 25 del mese festeggiano il Natale, adesso te lo troviamo e ti prendiamo lì Ma posso dire, io scherzo quando dico così Se qualcuno ne ha fatto un business, avrà avuto ragione, ecco il conto in banca gli darà ragione Non mi ricordo bene dove sia ma c'è, dopo lo cerchiamo magari Comunque, siamo pronti? 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5 Nostro numero di Whatsapp potete scriverci, mandarci gli auguri di Natale se volete a questo punto anche fuori stagione Lorenzo è sempre contento, ma soprattutto raccontarci come va la vostra mattinata Auguri di Natale perché comunque sono più vicini rispetto alla prossima festività Che è Pasqua Sì perché a Carnevale non si fanno gli auguri Non si fanno gli auguri quindi Perché il Carnevale è un casino perché fai gli auguri qui, là, cioè il Carnevale in Milano non è lo stesso che c'è dall'altra parte No, 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 è difficilissimo Achille Lauro, stupidi ragazzi Alle 7 e 13 minuti qui su Cristiano Radio, qui a Good Morning Milano E sì e iniziamo subito con, appunto entrando nel vivo della nostra trasmissione Perché oggi, martedì 9 gennaio, sono successe una marea di cose in tutto il mondo Sentiamo che cosa? Allora, iniziamo da nati sportivi Dan Peterson Auguri coach Il coach che è stato al telefono con noi qualche mese fa in occasione della sua candidatura a ricevere l'Ambrogino d'oro Ne abbiamo portato fortuna Non l'avrà vinto per questo parola Allora, io ho degli insiders che dicono che l'Ambrogino d'oro di Dan Peterson è andato al Pucci Ah, è proprio quello lì, è quello lì No, sto chiaramente scherzando Poi è il compleanno di Rino Gattuso Nato 46 anni fa Ringio Ring, bellissimo Eccolo, cosa so Bravissimo Calabrese Doc, grande difensore Sta fasteggiando con l'antuglia oggi Sta fasteggiando con la sua passata Sta fasteggiando La sua passata con le candeline Con le candeline alle 7 del mattino È abbastanza discriminatorio quello che è appena detto Ma vabbè, scusa Non accetta Se era cinese dice che lo stava fasteggiando con l'antuglia Con la peggio Se è italiano festeggi con la pizza Vabbè, è normale No, si scherza Anche qui scherziamo forse troppo Secondo me la sua pressata si mangia intera Gattuso Con la piccante si mangia intera Così E soprattutto Essendo tu un Apple fan di lunga data E io un Apple fan di breve data Per ragioni anagrafiche Sottolineiamo che nel 2007 Steve Jobs ha presentato l'iPhone Il primo iPhone Che ha reinventato sostanzialmente il telefono Sì, uno dei pochi Delle poche presentazioni fatte a gennaio Di solito le fanno a ottobre Invece vedi questo qui L'iPhone Il primo iPhone La presentarono Beh, mitica presentazione Se avete tempo Andate su YouTube e cercatela È bellissimo Perché lui dice che Apple ha inventato tre nuovi device Dice a un certo punto E li fa vedere separatamente Sì, li fa vedere separatamente C'è un telefono Un browser Web Web E un lettore musicale Dice così, no? E lo dice tre volte Tipo, a browser A music player And a phone A browser E dice, ma tutto questo è uno solo Si chiama iPhone Belli Per le doc Dal punto di vista dell'iPhone Pensate come siamo arrivati Ci emozioniamo per la presentazione di un telefono Sì, è perché vabbè Un telefono che ha cambiato tutto Ma come nel momento in cui Scusate Già abbiamo un minutino Prima di luce verde Robe da Apple Fan La WWDC dell'anno scorso Il famoso But One more thing Ah sì Quando hanno presentato Alla fine della conferenza Si vociferava da un sacco di tempo Di sto visore Sto visore Sto visore L'hanno annunciato Poi sarà tipo fra due anni Spondino Una roba del genere In otto Da vero il mondo adesso Penso sì Però Sono robe da pelle d'oca Perché sono studiate Alla perfezione One more thing Ancora una cosa È un'idea di Steve Jobs Tante volte l'ha fatto Quando presentarono L'iPod nano A un certo punto Aggiunse anche Il one more Little thing Una cosa Non lo sapere Fecero qua Sì sì Vado a dire Io ho visto dal vivo Una di quelle presentazioni di Apple Nel 2007 L'unica Non fatta da Steve Jobs Mentre era in vita Sì Ho visto Tim Cook Non ho visto Steve Jobs Vabbè Adesso Non stava tanto bene È il vertice Sì infatti Ho precursore dei tempi Luce verde Ligabue Insieme ad Elisa Con Volente O Nolente E bene Forse la canzone giusta Per introdurre Il tema un po' particolare Che dobbiamo parlare adesso Darvi un annuncio Volente o Nolente Le cose succedono Le cose succedono Esatto 331 7853555 Colgo l'occasione Per il messaggio Di Alberto Che ci dice Un saluto E un buongiorno A tutti i cristallini L'ascolto Questa mattina E Alberto Anticipa Anticipa Perché sostanzialmente Faccio un passo Da domani Farò un passo indietro Su Good Morning Milano Che chiaramente Continua Nelle ottime mani Di Fabio Non escludiamo Il fatto Che poi In futuro Magari In qualche maniera Con qualche contributo Qualcosa Possiate ancora Ristentire la mia voce Magari settimanalmente Non si sa Si vedrà Però Comunque Quotidianamente Non mi troverete più Io chiaramente Ma lo continuerò a dire Lo continuerò a dire Lo ripeterò Nelle prossime ore Ringrazio Cristal Radio Ringrazio Fabio Ma poi Capiamo per bene Tutto Ci diciamo per bene Le cose E quindi nulla Infatti Alberto ci dice Un arrivederci Un grazie a Lorenzo Auguri per il nuovo impegno Che lo attende E forza Fabio L'avventura continua Di Good Morning Milano Infatti Perché è importante Poi è questo Quindi I contenuti Li troverete Sui social I video Li troverete Sui social Su Youtube Ci troverete Tutti i giorni In FM Troverete Fabio Tutti i giorni In FM Comunque Sul dub In video Sul sito Ovunque Tutto come prima Ma La mia sua dente voce Oggi Sarà l'ultimo giorno Di Lorenzo Qui con noi In diretta Che voglio ringraziare Pubblicamente Non troverò mai Un compagno di viaggio Come te Lorenzo Sono sicuro di questo Però ho bisogno Del vostro aiuto A questo punto Quindi voi diventate Ancora più importanti Voi da casa Che ci ascoltate Tutte le mattine Diventate ancora più importanti Diventate ancora più I miei compagni Di viaggio Per cui Tutte le mattine Faremo questa strada Insieme Dalle 7 alle 9 Qui su Crystal Radio Quindi mi raccomando È 331 7853 555 Ho bisogno di tutto Il vostro Aiuto E anche supporto Insomma Anche emotivamente La giornata oggi Non è semplice Per entrambi Credo Comunque Anche Viola Ci è rimasta male Che ti conosce da poco Ma ci è rimasta male C'è la lacrimuccia C'è la lacrimuccia Facendo gli occhioni Ma Falla brucio Falla brucio Falla brucio Falla brucio Falla brucio Falla brucio Adesso che arriva il tempo Aspetta un attimino Ancora No comunque Poi In chiusura Lo ricorderemo Per chi si collegherà Dopo Si può andare avanti Si può andare avanti Si può iniziare Con la rassegna Stampa Perché è stato E' stato preso Anche il terzo Complice Minorenne Della folle Bravata In Viale Toscana Che per fortuna Non ha portato Alcun danno Minorenne Minorenne Esatto Il 17enne Si è confidato domenica Con i suoi genitori Interrogatorio Per l'aiuto Cuoco Che si è costituito Decisione Sul carcere Seguiremo un po' la vicenda Senza troppo addentrarci Essendo vicende giuridiche Sapete benissimo Che il tenore Di Good Morning Milano E' molto diverso Da quello Giustizialista Ah si sicuramente E Diciamo Affamato Di cronaca Come magari spesso Purtroppo Siamo trovati A trovare In altre trasmissioni Quindi noi ci limitiamo A dire questo A riportare appunto Ciò che è successo E poi Si può passare oltre Magari A sentire cosa dice Mazzei Cosa dice Monguzzi Su I tornelli Ancora No 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 l'ho buttata lì L'ho buttata lì No però ieri Davide Borghi Davide Borghi ha fatto Tutto un post Sui tornelli Che però finiva Con una bella proposta Diceva Ma se L'abbonamento TM Costasse Ad esempio 170 euro Se faceva questo Prezzo Diciamo scontato Alla Mastrota No diceva Sai cos'è Tu lo faresti Anche se lo usi poco No No e io si invece Vedi Io si 170 euro in un anno Cioè vabbè Ma cosa sono Niente Vago meno di Vago forse più di Netflix Non lo so È difficile fare In totale Cioè pensare Tu con 170 euro all'anno Usi tutti i mezzi Quando vuoi Come vuoi Con chi vuoi No con chi vuoi Però tieni conto Che ognuno Nelle sue tasche Magari c'ha Altri tipi di priorità Non lo so E sarebbe così E lo userebbe così Di rado Boh Io Secondo me La soluzione Sono incentivi Tipo quello Che ho trovato io Quando ho fatto L'abbonamento annuale Ossia la BikeMe Con l'abbonamento annuale Under 30 Non mi ricordo 27 Eccetera Con l'abbonamento annuale Più un euro al mese Avevo la BikeMe È più comodo di così Allora dici Quindi devo aggiungere cose Per farti Fare l'abbonamento Ok Qualche agevolazione Non lo so Tanto sting Irani Maleskin Alle 7.35 minuti Ricominciamo Ripartiamo Con la seconda mezz'ora Di trasmissione Cosa dicono i giornali Caromasieri Esatto Esatto Da segnalare Anche se ci spostiamo Un po' più fuori Da Milano Di qualche chilometro Di qualche chilometro Esatto Perché ieri Il centrodestra Leggo il titolo Della Repubblica Milano Il centrodestra Celebra Il via dei lavori Per salvare Il Gran Premio Di Monza Però resta ancora Da definire La seconda fase Degli interventi Perché Perché sostanzialmente Ieri Sono iniziati i lavori All'autodromo di Monza Per il riammodernamento E mi cambia nella pista No Riammodernamento È l'unica che so memoria Nuovo asfalto Vabbè Ma sono tutte Sono tutte le curve Sono tutte le curve Sono tutto Tant'è che quando sono andato Al museo del trasporto Di Lucerna Che ho guidato La Formula 1 Su Monza Ho fatto un miglior tempo Non lo sarei mai aspettato Mai aspettato Bellissimo Bellissimo Potrei guidare occhi chiusi No Io giocavo al classico giochino Ma non mi ricordo E sembra facile No Quando tu usci dalla seconda di Lesmo E vieni verso la Scari Che passi sotto il punticello Eh lì non è Devi tenere la traiettoria giusta La curva del tabacchi No Quella è Montecarlo Quella è Montecarlo La curva del tabacchi Ma c'è 6 curve Non è che ne erano tantissime Prima variante Seconda variante Le due di Lesmo La Scari E la parabolica 6 Lo ho detto a caso 6 Ma sono molto meno tecnico Quindi te l'ho disegnato A forma di stivale Sì Più o meno E quindi Nuovo asfalto Ah ok Tutto sta Ma per mettere tutto un bini nuovo No La Repubblica dice Nuovo asfalto Ok Per l'autodromo di Monza Sì Ma c'è un altro rinvio Per le tribune E i box Che evidentemente Fanno parte del secondo pacchetto Di interventi Che non è stato ancora definito Lotto 2 Esatto Si chiamano lotti Non li chiamano infatti Ma beh sì Quello magari Un po' da modernare sarebbero Fatto sta Che ieri c'era appunto Tutto il centro-destra Che conta Almeno a Milano Innanzitutto In primis Chiaramente Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini Perché se non è a Milano Un giorno sì E l'altro pure Si sente male Probabilmente Non lo so Mi manca l'aria Poi Chiaramente Attilio Fontana Presidente della regione Lombardia Adriano Galliani Eccetera 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 Tante tante persone Mentre segnaliamo Inoltre Che sempre Restando in tema Di mobilità Anche se In maniera marginale Anche perché non è Molta mobilità La formula 1 No infatti 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 Però Facciamo Ruote Ruote Rimanendo in tema ruote Non è vero Non è vero Non è vero Perché sono su binari Vabbè Fagini Su cose che si muovono Su cose che si muovono Quindi tutto Tutto Il tram Carrelli Entra nelle coalizioni Del museo della scienza Di Milano Ieri è partito Lo storico tram Uno dei 125 Carrelli Carrelli Che sono ancora In servizio È partito Dall'officina generale Di ATM Di via Teodosio Per prendere appunto Posto nella sua Nuova casa E sarà esposto Al padiglione Trasporti Trasporti Ferroviari Del museo Della scienza E della tecnica Che bello Oh così c'è una scusa Anche per andarci quest'anno Tutti gli anni ci vado Tutti gli anni Il museo della scienza Sì sì C'è anche il gamba De legna lì Che è il famoso tram Che portava Verso fuori Milano A vapore Quindi Bene bene Il Carrelli quindi Entra da far parte Anche lui Per intenderci È il tram 1 Cioè quello lì Sì è quella Quella di Lisbona Sì più o meno Quelli che ci sono Anche a San Francisco E questo è Massimo Pericolo Massimo Pericolo Con la sua canzone Che si intitola Viola Come si intitola La canzone di Massimo Pericolo Buongiorno Viola Buongiorno a tutti Le cose cambiano Di Massimo Pericolo Le cose cambiano Di Massimo Pericolo Allora perché abbiamo Viola qui Perché Confessiamo Maseri Non essendo Il nostro genere preferito No ma non Subito lui Che va subito Ah beh Ah sembra la storia Di Carboni No 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 Oggettivo Ok Avendo altri tipi Di gusti musicali Siamo un po' ignoranti Su chi è Massimo Non su chi Ok però Ha questo nome Che ci intrippa Come dire Mi interessa sempre Anche se io Non vorrei Lo confondo sempre Con Peo Pericoli Che è quello In mente lui Che non c'entra niente Infatti Viola non sai Chi è Peo Pericoli Infatti Teoteocoli Personaggio Personaggio di Mai dire gol Comunque no Invece Massimo Pericolo Allora Non lo conosciamo Però da quanto capito È uno che Insomma se va in radio Il suo mestiere lo sa fare Ma soprattutto Viola dove vai sabato? Al concerto di Massimo Pericolo Al Forum Al Forum Sì Cioè hai visto Che stupore entrare Sì ma Con l'ultimo album Massimo Pericolo Adesso Cioè comunque Spacca Sì Si dice ancora Spacca Io fisicamente Ce l'ho in mente Perché aumenta la faccia Arrasato Esatto Ok perché ho visto Appunto Mi sono capitati dei video Non so assolutamente Che tipo di musica fa Adesso chiediamo Viola Viola Che musica fa Massimo Pericolo Come lo definiresti Se si può definire In questa società Priva ormai di etichette Ma direi un mix Tra rap Trap Questi due generi qua Principalmente E cosa ti piace tanto Di Massimo Pericolo? Allora in realtà Io non l'ho seguito Da sempre sempre Però l'ultimo album Mi piace tantissimo Poser Eh? Vabbè Cos'è? Cos'è? Poser C'è un pose? È quando tipo Sei fan Delle canzoni Sì sì esattamente Però l'ultimo album Davvero bello Secondo me Ok Canzone preferita Di Massimo Pericolo? Allora dell'ultimo album Mi piace tanto quella con Tedua Si chiama Straniero Ah beh è un altro Che c'ha la sindrome Del non poter cantare da solo Cioè quella che ormai Tutti i featuring Non ce la fanno Tedua non l'abbiamo ascoltato Tanto nel suo feat Con i Pinguini Sì sì Tanto sì Tedua Bresche Cos'è un cantante Era Bresche Con i Pinguini Era Bresche Era Bresche Era Bresche Scusa Ah non c'era anche Tedua Non so Era in 7-8 Mamma mia che vergogna Non ci chiama tipo Radio Classic Anni 70 Avete sentito La terza Aria di Beethoven Adesso una canzone recente Mettiamo Rimmel Del Principe No però Allora Sta di fatto che Quindi sabato Al forum da Sago Ci sarà il concetto Di Massimo Pericolo Giuro Ok adesso Ti faccio questa domanda Quanto sono costati i biglietti? Allora Non ne ho idea Più che altro Perché un mio amico Lavora lì E quindi ha sempre degli ingressi Cioè il papà si occupa Delle luci Non diciamo niente Perché non si può dire Perché poi dopo Licenziano lui E restano a voi Che non potete entrare No non lo so Scherzo No beh ma ce li ha Certo C'è una due o tre Ognuno Ah ecco quindi Capito Allora Allora faccio a salutare Scusa Se potrai entrare così Addentro Non credo Però se riesco Gli vai a chiedere Di salutare Da parte nostra Che lo invitiamo a venire qui Perché Grandi fan Siamo curiosi No io sono curiosissimo Di conoscere Massimo Pericolo Massimo Pericolo No me veramente Siamo grandi Crystal Radio E grande fan Di Massimo Pericolo In particolare Good Morning Milano Vieni da noi Che pirla che sei Ma davvero Cioè io Sono curioso Di conoscere Massimo Pericolo Non sapevo Della sua esistenza Va bene Fino a qualche giorno fa Quando abbiamo cominciato A mandare in Evil Rotation Questa canzone Quindi Ho visto poi Viola che si è illuminata La prima volta che ha visto Massimo Pericolo Qui in Onda E qui c'hai Onda Che ha ascoltato La canzone in Onda Dimmi Posso farti un'altra domanda Viola Quali sono gli altri Tui concerti in programma Quest'anno Sai che in programma Ah no Sì a Firenze Vado a vedere I pingüini tattici nucleari Ma dipende Dove Dipende Dove Vabbè dai Ma che esagerare Ma no Dipende dove lavora Il papà del suo amico Cioè È vero No però Comprati i pingüini A Firenze A Firenze A Firenze Rockfest No 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 Al Nelson Mandela Ah al forum Al forum Di Firenze C'è un forum Ah sì Mandela Nel suo Mandela Nel suo Mandela Me lo ricordo Matteo Rinzi Non mi dava sempre Ognuno ha le sue passioni Questa roba Che non si rinnega È un periodo buio Della vita politica Di Fabio Ranfi Incredibile Poi Manguzzi ci dice Che siamo di sinistra Ma vedi Per quello Per quello Sfatiamo questo mito Sfatiamo subito Questo mito Ebbene Viola Grazie per averci Portato Nell'affascinante mondo Di Massimo Pericolo Io dico Che il mio unico Concerto in programma Per il momento Siccome Da quando hanno smesso Di pagarli Mamma e papà Ne vedevo Tipo Quattro e cinque Adesso solamente vasco Che giorno vai E non lo stesso In cui vai te Ah ok C'hai scelto Quando è che vai Fabio Io l'ho preso subito Per cercare Di prendere il gold Ma anche io l'ho preso subito No tu l'hai preso Due giorni dopo No non lo so Io non l'ho preso io Poi tra parentesi Ma se eravamo qua Sì ma non l'ho preso io C'è l'ha preso uno C'ha il papà Di uno che conosco No non è vero Potevamo chiedere All'amico di Viola Se magari Ma per caso è quello È quello famoso Che è andato su tutti i video Che saluta la gente Non è lui il papà Come si chiama Come si chiama Ivano Come si chiama No no Mi chiami Ivano No ma quello fa parte Della sicuri Ah no lui è un tecnico Lui organizza proprio Il palco Le luci E perché non viene qua Se ti immagino un po' Le luci nello studio Già che ci siamo Va bene Va bene Sarei curioso di chiedere a lui Cosa pensa di Massimo Pericolo Non so chi era Se usciva Che era diventato meme Ma chi è famoso Ma chi Ivano O il papà di Ivano Ah Ivano 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 Ciao Ivano Alfa con Bellissima Alle 7.50 Abbiamo chiuso questo momento Di conoscenza Del Massimo Pericolo E della musica Che i giovani ascoltano Nelle nostre orecchie Con le cuffiette Del vostro Walkman No non c'è il Walkman Non c'è più il Walkman Non c'è più Non c'è più Io avevo Ho avuto uno degli ultimi C'è anche che esiste ancora Ho scoperto La Walkman Sì Sì c'è un brand Della Sony Però fa lettore MP3 Fa cose inutili Il Walkman era quello Con le cassette Con le cassette Ah no Allora no Mi nonno Ho fatto col CD dopo Eh io col CD Tutto quello che era musica Portatile di Sony Veniva marchiato Walkman Che qualità Il concetto era quello Sì infatti Però vabbè Per fortuna ho fatto in tempo Ad avere il supporto analogico E da lì forse Poi mi sono interessato Anche comunque Mantenere un certo tipo Di collezioncina Di CD Vini eccetera Quindi meno male Dai magari Un anno dopo Un anno e mezzo dopo Due anni Basta Non avrei avuto La possibilità Di sperimentare l'analogico E quindi non mi sarei interessato Sì ricordiamo che poi analogico Sì più o meno Il CD non è così analogico No sì intendo Supporto fisico Supporto fisico Ok sì sì Comunque La Bic Per portare avanti Indietro Cioè indietro La cassetta Non ce l'hai fatta Ma guarda Ti dico la verità Chi se ne frega Cioè nel senso Hai vissuto meglio di noi Cioè quando tu volevi sentire una canzone Facevi skip Massimo col CD E scrittivi quella Non registravo La radio con le cassette I più malati di noi Ti ricordi cosa C'era sul Walkman C'era un contatore Che in realtà andava Da 0 a 999 Tipo Quattro cifre Tre cifre I più malati di noi Si segnavano I timing Delle varie canzoni Quindi tu sapevi Che a 325 Del contatore Partiva Una canzone No Però tu dovevi Azzerarlo Quando partiva la canzone Cioè la cassetta All'inizio Quindi è un casino C'è una roba Completamente inutile No ma dovevi essere anche Malato di mente Assenti tutti i timing Sicuramente qualcuno Che nascolta in questo momento Lo faceva Sono strassicuro Oltre a te Ma io non ero così preciso Io facevo di più Mi piaceva una canzone Facevo una cassetta A fronte e retro Con solo quella canzone Così Perché mi piaceva Così non dovevo tornare indietro Cioè andavo in loop Una delle prime cassette La marcia trionfale Della Aida Che mi piaceva tanto Da bambino Fatta dal mio zio Una cassetta Tra 90 minuti Fronte e retro Con solo la marcia trionfale Della Aida Bellissimo ricordo Bellissimo ricordo Bellissimo ricordo Tanto chiudiamo Un'anomalia come vedete Nella seconda foto È semplicemente una questione Di prospettive Soprattutto ma la fede Della persona Che ha diffuso Questa stupidaggine Fate attenzione Quando rilanciate Delle notizie Verificate sempre La fonte Credibilità Di ciò che condividete Appunto sui social Questo Non ci si può fidare Più neanche delle foto Però bisogna fidarsi Della Assessora Alla mobilità Sì Sì No Non era sarcasmo È vero No sembrava È vero No no Delle istituzioni Io ho grande fiducia Nelle istituzioni Qualcuno avrebbe da ridire Velocissimi 12 e 13 gennaio Sarà aperto In San Babila Il Temporary Shop Come si chiamano adesso Dei Club Dogo Per riuscita del nuovo disco Call Me Blondie 809 Questo è il Crystal History Dal lontano 1980 Canzone senza tempo Canzone senza tempo Come senza tempo Non so se per fortuna O per sfortuna È il tema delle periferie Che tutti i martedì Affrontiamo insieme a Walter Cherubini Consulta Periferie Milano Buongiorno Walter Buongiorno a tutti Buon Sereno Ed anche operoso 2024 A tutti quanti I nostri ascoltatori Vedi Questa è la risposta Alla domanda Che ci facciamo Ieri Lorenzo Fino a quando Si deve dire buon anno E quando ci si vede La prima volta Giusto Walter Tu che sei un uomo Da Galateo Da Galateo Salutiamo Questo qui Buon anno Un augurio Anche se poi alla fine Dal 31-12 All'1-1 Il cambiamento Non credo che sia fondamentale Nella vita di ciascuno Nella testa Magari anche qualcuno Però è cambiato qualcosa Nel corso Dal 31-12 All'1-1 Ne potremmo parlare Qualcosa è cambiato Perché una legge Dello Stato Ha imposto Un cambiamento Per soprattutto Chi amministra Gli enti locali Giusto? Sì Diciamo che Diamo qualche numero Anche perché Normalmente È un po' come Nei condomini Che Quanto ci si interessa Dell'andamento Del proprio condominio Sì Si pagano le spese Quanti partecipano All'assemblea Generalmente La metà Delle persone Quindi Il tema Della partecipazione Ma anche In primo luogo Della consapevolezza Di essere parte Di una comunità Diciamo C'è un aspetto Quello economico Che è abbastanza Interessante Aspetto economico Che è abbastanza Interessante Però poi È difficile Che ciascuno Sappia un po' Alcuni elementi Per esempio Normalmente Qual è il bilancio Del comune di Milano Ordinario 3 miliardi e 7 3 miliardi e 7 3 mila milioni Adesso siamo A 3.700 milioni Il bilancio Delle spese ordinari Del comune di Milano Ma non lo sa nessuno Un miliardo Per il trasporto pubblico Riccardo questa cosa Quindi In questa occasione Magari daremo Qualche dato Allora La prima cosa Rispetto ai dati E quindi agli monumenti Degli amministratori comunali In particolare Quelli della città Di Milano Che sono stati legati A un aggiornamento Già dal 2022 Perché Teniamo anche conto Di una cosa Che dal 2000 Erano rimasti Intoccati Ok E quindi dal 2000 Al 2021 Erano rimasti Sempre fermi Per cui Per 20 anni Non è poco Sì Come gli stipendi Anche vostri State pensando In questo momento Sì Come gli stipendi Di tutti noi altri Dopodiché Possiamo mettere Il merito Ma qui ci limitiamo Solamente A qualche dato Quindi sono stati In particolare Il monumento Del sindaco Della città metropolitana È stato Ragguagliato A quello che è Il monumento Del presidente Della regione In questo caso Lombardia E c'è stata Una progressione Una progressione Nel 21 Il sindaco Percepiva 7.018 euro L'ordi L'ordi Ricordiamo Che sono poi Quella gente Con incrementi successivi Al 2022 Al 2023 Dal primo di gennaio Del 2024 L'emolumento È di 13.800 euro L'ordi Mensili Direi che sono Per 12 mensilità Non c'è neanche La tredicesima Non mi risulta Ci sia la tredicesima Normalmente Vanno a A 12 mensilità Ma ve lo sindaco Mi spiace Diciamo che Non cambia più di tanto Ma tanto per avere Un ordine di grandezza Malte Non vorrei mettere in difficoltà Ma credo che tu lo sappia Questo Questi soldi Non vengono Tirati fuori Dal bilancio comunale Però viene dato Dallo Stato Giusto? Ho fatto una domanda difficile No no Non credo Perché Se non ho letto male Vengono messi Come posta Del Del funzionamento Del personale Dell'amministrazione comunale Quindi va a aumentare La spesa Quindi va a aumentare La spesa Di un tot Ecco diciamo che Nel 2023 Il sindaco Percepiva 11.629 euro E quindi L'aumento mensile Sono di 2.000 euro Passiamo invece Ai ruoli Successivi Che sono Il vice sindaco Il vice sindaco Questo in una normativa Generale Ha un appannaggio Che è pari a Il 75% Di quello che Percepisce il sindaco E quindi Del primo di gennaio La nostra vice sindaca Percepisce 10.350 euro Gli assessori Percepiscono Il 60% Dell'indenità Del sindaco E quindi Sono a 8.970 Ugualmente Alla presidente Del consiglio Comunale Di Milano Alla presidente Del consiglio Comunale Di Milano E quindi Hanno avuto Un incremento Dall'anno scorso Dal 31.12.2023 Al 1.1.2024 Dicevamo Cambia poco Ma in questo caso Cambia qualcosa Da 7.559 euro A 8.970 Per i consiglieri Comunali Diciamo che C'è stata Una Una modifica Che però Ha una Diversa incidenza Strutturale Mentre i primi Percepiscono Per l'attività Che facevano prima Un incremento Invece Per i consiglieri Comunali Rimane fisso Il gettone Di presenza Le sedute Del consiglio Comunale O alle commissioni Per un importo Di 92.96 euro Ok Solo che Hanno avuto La possibilità L'orda è anche questo Sì Stiamo sempre Parlando di lordo 100 euro Neanche 100 euro Net Ha seduto Nemmeno 100 euro lordi Infatti Nemmeno 100 euro lordi Sono 92.96 E quindi Invece qui C'è un tetto Ah ok C'è fino ad oggi C'era un tetto Che era di quanto Allora Un tetto per esempio Nel 2021 Era di 1754 euro Quindi Fai i conti Se io prendo 100 euro A seduta 17 sedute Le potevo fare Non di più Mensili Ok Esattamente Che però 17 sedute mensili Insomma Sono tante No Non sono tante Diciamo che Fanno così tanti Ma solo Sedute anche Delle commissioni Anche delle commissioni Quindi il consiglio comunale Le commissioni sono equiparate Il consiglio comunale Poi hanno anche Dei tempi diversissimi Perché il consiglio comunale È molto più lungo Le commissioni Generalmente Sono di un'ora Ok Quindi ecco Questo qui 17 appuntamenti in un mese Due consigli comunali A settimana Se non ci arrivi Ci si può arrivare Se fai bene il tuo lavoro C'è qui Normalmente arriva Ecco È cambiato il tetto Ok E quindi dal 2021 1700 Attualmente sono 3450 Ok Quindi è raddoppiato l'importo Il tetto massimo Ok Ma l'importo dei gettoni di presenza È rimasto sempre quello Quindi devo fare più presenza Quindi teoricamente Devono raddoppiare No Adesso Mi sembra che questo qui Sia la lettura Tutti i giorni Devo mettermi a fare roba Non vorrei aver preso Uno svarione Ok Perché potrebbe essere Anche possibile Ecco questo Dal punto di vista strutturale Se fosse così Veramente Crea un problema Da un certo punto di vista Perché Uno raddoppia il suo lavoro Se uno tiene conto Che anche prepararsi Al consiglio comunale Eccetera eccetera O uno va solamente Per fare presenza Ma se va Perché Vuole avere nelle commissioni Voce in capitolo Uno si deve anche presentare Ecco Questo qui è un aspetto Particolare Ma è il quadro Della situazione Variante 2023 2024 E ritorniamo qui Quindi con Walter Chirubini Stanno appunto In questi compensi E abbiamo fatto un po' di matematica Per For Dummies E abbiamo fatto un po' di conti in tasca Abbiamo fatto un po' di conti in tasca In realtà Nel senso Allora Il concetto è Cari consiglieri comunali Se lavorate Vi pagano Se no No Cioè il concetto è quello È che è vero che comunque viene chiesto un impegno Che Confonde un po' di acque Nel senso Secondo me Cioè qual è la tua critica Diciamo Si va a dover fare per forza tutte queste commissioni Tutti lì E tutti quanti Ad ammassarsi In comune Il concetto è quello Siccome vorrei verificarlo Perché è proprio una cosa nuovissima Vorrei verificare questo tipo di numeri Perché altrimenti Una persona Per poter avere l'appannaggio complessivo di 3400 Un consigliere dovrebbe fare qualcosa come 37 sedute Tra consiglio comunale e commissioni Questo che cos'è che comporta Che Bisognerebbe Partecipare alla commissione A ragion venuta Conoscendo Uno in pratica deve essere un'enciclopedia E allora Non essendo un'enciclopedia per definizione Uno partecipa Appunto Ecco Allora È un aggravante È una sovrastruttura Che uno si deve prendere Ma questo non Indica La qualità del lavoro svolto Perché Normalmente Come Accade Accadeva anche nei tempi passati Chi si impegna In politica Lo faceva per tutta una serie di ragioni Che possono essere Quello è l'ideale La passione e quant'altro E lo faceva normalmente Senza nemmeno Dover partecipare A sedute del consiglio comunale Senza essere consigliere comunale Dopodiché Lo diventava Perché dimostrava di avere Qualche capacità Muovendosi sul territorio E quindi mano a mano Assumeva delle responsabilità Ma c'era già un lavoro prima Un lavoro normale Di interesse Che poi Si fissava In determinati ambiti Che sono La sede del consiglio comunale Piuttosto che la sede del consiglio Allora di zona Ipotizziamo tanto Per rimanere nella nostra città Ecco Ma uno Lo faceva E anzi All'interno anche Dei gruppi consigliari C'era una ripartizione Di competenze E quindi C'era chi si dedicava A una commissione Piuttosto che Un'altra Oggi come oggi Tutti devono Occuparsi di tutto Va a finire Che Non si occupa di niente Non di niente Ma diciamo che Diventa Del tempo Che uno Dedica Anche per magari Arrivare a questo tetto L'abbiamo visto Per esempio Nelle commissioni Consiliari Dei consigli di zona Oggi municipi Quando ci fu L'introduzione Del gettone di presenza Non solo per i lavori Del consiglio Ma anche delle commissioni Prima diciamo che Alle commissioni Che erano Che sono aperti Alla cittadinanza Tra le altre cose I consiglieri Che partecipavano Ce n'erano Circa uno Per gruppo consigliare E nemmeno quello I gruppi consigliari Più grossi Potevano anche Distribuirsi I gruppi consigliari Più piccoli Facevano quello Che potevano Quando c'è stato Il gettone di presenza Diciamo che avevamo Anche 25 consiglieri Allora 25 consiglieri Vuol dire che Se si passa Da 4, 5, 6 di media A 25 Non è Una logica Organizzativa Sì sì È una logica Diciamo così Remunerativa Senza voler Entrare nel merito Non c'è nessuno Presidente ricco Facendo il consigliere Di zona Di municipio No 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 Assolutamente Serve magari Per arrotondare Ma il problema È che dal punto Di vista strutturale Anche organizzativo Hai un multiplo Di presenze Di persone Che non sono Diciamo così Adeguate A quello Che è lo scopo E anzi Per certi aspetti Partecipavano anche Parecchi Alcuni cittadini Anche preparati Perché alla commissione urbanistica C'era il geometro Cioè Persone che avevano Delle competenze esterne Che davano anche Un contributo interessante Al dibattito Perché le commissioni Ai tempi Erano anche consultive Non decisionali E quindi È premesso Che è sempre Il consiglio Che decide Oggi un po' meno Perché c'è L'apparato Diciamo così Di governo Del territorio Con il presidente E gli assessori Che hanno Una maggiore decisionalità Rispetto a A tempi che furono Però Ecco Diciamo che Questo quadro D'assieme No Porta Ad avere Un impegno Tra virgolette Istituzionale Maggiore Ma la qualità Com'è la qualità Ecco Questo qui Un po' Poi c'è anche Un appannaggio A chi Sta nei municipi Eh infatti Perché chi sta nei municipi E sono ben contento Di sapere che Il presidente Del municipio Ad esempio Aveva un adeguamento Anche lui Anche lei Per Il suo Stipendio Ma non Mi viene da dire La critica Non vengono Però adeguate Le responsabilità Non tanto Le responsabilità Quanto i poteri Mi viene da dire Benvenga Che venga pagato Di più Un presidente Di municipio Anzi Visto che lo paghiamo di più Facciamolo lavorare di più E non è colpa sua Se non può fare Certe cose Ricordiamoci questo La legge è ancora un po' Troppo restrittiva Da quel punto di vista Le normative Comunali Diciamo Ecco perché non si tratta Di legge Da questo punto di vista Si si va a far discutere Normative No ma Sono decisioni Organizzative Del comune di Milano Perché non esiste Una legge nazionale Che definisce Il potere O no Del municipio Cioè ogni comune Fa su Fa sé Torino farà In una maniera Roma farà in un'altra Giusto I regolamenti I regolamenti Per quanto riguarda Il funzionamento Dei municipi Sono diversi L'uno Dall'altro Per esempio Ci sono alcuni Comuni Per esempio Roma Sì Ma credo anche Bologna Che hanno Un peso maggiore Da questo punto di vista Sono più decentralizzati Diciamo Ma io Direi che Aumenta Il concetto Della responsabilità Sì Perché La questione di fondo È questa Se tu non hai Alcun potere A chi rispondi Giusto Uno viene a chiedere Prendiamo il municipio E attenzione Valte Non stiamo dicendo Che non fanno niente I presidenti del municipio Anzi I stessi presidenti Sono loro a chiedere Spesso e volentieri Quando erano di colori diversi Quando sono di colori uguali Tutti i presidenti passati E futuri Chiedono la stessa cosa Cioè Dateci più responsabilità Dateci la possibilità Di fare il nostro mestiere Cioè questo Chiedono Ecco Allora È interessante Ritorniamo al tema Degli antichi comuni Miluenesi Che abbiamo sviluppato Lo scorso Lo scorso anno C'era Il sindaco Di Baggio Piuttosto che Di Affori Avevano una responsabilità Loro completa Sul territorio Di loro pertinenza Oggi come oggi Poi è stata tolta Appunto Cento anni fa Nel 1923 È stata azzerata Questa funzione Il tema Che ci dobbiamo porre Ma questa funzione Qui Oggi Sul territorio Sarebbe necessaria Oppure no Oppure va bene Questo tipo Di organizzazione Amministrativa Dove Come ha Recentemente Sottolineato L'ex sindaco Albertini Il cittadino Chiede al Proprio sindaco Di Milano Le strategie Per il futuro E anche Il tombino Sotto casa Di risolvere Il problema Del tombino Sotto casa È chiaro Che questo tipo Di organizzazione Può andare bene Forse per un comune Di 3 km quadrati 5 km quadrati Quando andiamo a Milano Sicuramente Non funziona Allora Noi dobbiamo Un attimino Ripensare Velocemente Se questo tipo Di organizzazione Con 250 persone Che operano Sul territorio Presidenti di municipio Assessori E quant'altro Perché poi sono Assessori di nome Non di fatto Perché dovrebbero Avere la possibilità Di intervenire E come Ce l'aveva Assessore Cento anni fa Tenuto conto Che adesso La situazione È molto più complessa Sul territorio Perché guardiamo Solamente la popolazione La popolazione Cento anni fa Del centro Era di 200.000 residenti Oggi È della metà Nello stesso tempo Invece La popolazione Dei comuni Che allora Vennero Aggregati a Milano Era di 123.000 Oggi siamo Sull'ordine Degli 860.000 Residenti Ecco Quindi è cambiata Completamente la cosa Invece la struttura Organizzativa È rimasta A 100 anni fa Anzi Rispetto a 101 anni fa È peggiorata E lo si vede Operativamente Insomma Questi sono i temi Che la consulta Porta avanti Da tempo Queste sono le storie Che sentite spesso Qui con noi Il martedì E che quindi Anche martedì prossimo Appunto Torneremo qua A riascoltare Con te Walter Sempre per cercare Di raccontare La periferia milanese Che poi È una delle tante Periferie Di cui ricordiamo Ma direi soprattutto È La città Che sarà O non sarà Eh sì Ecco perché C'è un tema Fondamentale Quello Che è un dibattito Che sta cominciando A emergere Anche dal punto Di vista Stutturale Organizzativo Qualcuno Aveva fatto La città intorno Mi ricordo Forse Sarebbe più Chiamare la città punto Nel senso Che non è poi Niente così L'intorno di una città Ma è una modalità Diversa Perché per un certo periodo Una ciambella Dire periferie A noi ci piace A noi ci piace Periferia È una Geometrica In questo caso È un stato Territoriale C'è il centro Centro storico Periferia E tangenti È fattuale È fattuale Dopodiché tutti quanti Lo citano Periferia E quindi Noi lo rivendichiamo Lo rivendichiamo Anche perché appunto In questi anni Grazie a te Abbiamo scoperto Come periferia È sinonimo Di tante Tante belle cose Ecco dobbiamo associarlo Secondo me A un uso Una declinazione Corretta Di città policentrica Perfetto Che possiamo passare Dalla periferia Alla città policentrica Ma appunto Allora bisogna Ridisegnare anche La logica Di responsabilità Amministrativa Territoriale Che non è Un'assegnazione Di qualche potere Ma è di una visione Complessiva Del territorio Che i sindaci Di allora Avevano Oggi non hanno Grazie mille Walter Ci sediamo Grazie mille Grazie mille Consulta periferia Milano Takachi Ovviamente Crystal League Crystal League Sì Crystal League Potete andare Sul sito di Fanta Sanremo E Entrare appunto Nella lega Della Crystal League Ci sono già un po' Di squadre Ti leggo Una squadra Si chiama Cosa Si chiama così Ti voglio una squadra Cosa No la mia È le perle di Fabio Le perle di Fabio Le perle di Fabio Poi ce ne sono altre C'è Il team d'Argen Chissà chi ci sarà dentro Nel team d'Argen Ah c'è d'Argen d'amico Comunque a me Oh fatela Mi raccomando Perché adesso Te le coordinate bene Cosa bisogna fare Allora bisogna andare Sulla app O su Google Scrivete Fanta Sanremo Ce l'ho qua davanti Fanta Sanremo Ok perfetto Poi fate gioca Poi fate gioca Vi dovete registrare E poi ci sono le leghe Vi aggiungete Alla lega Che è la Crystal League Scegliete chi sono Avrete 100 baudi A disposizione Questi sono i soldi Per comprare Soldi finti Per comprare Tutto gratis Tutto gratis Per comprare i cantanti Ogni cantante Ha una sua Quotazione Ad esempio Se non ricordo male Ecco le quali Quotazioni La più quotata È Alessandra Amoroso Con 23 baudi Perché lei? Non lo so La mia idea Poi Alfa Con 20 baudi E Angelina Mango Con 23 baudi E anche Annalisa Con 23 baudi Ovviamente non ho nessuno Di questi qua in squadra Bisogna buttare Sui cavalli Anche M 23 baudi Scusa Pensavo fossero messi in ordine Invece no La Mannoia Ha solo 20 baudi Cioè solo Joliet 22 baudi Cioè Joliet Ha più di Più baudi Più baudi della Mannoia Vabbè Gali 20 Poi Vai Sì sì Costruite la vostra squadra 27 Rispettando Appunto i baudi Mi raccomando Spendetelo fino all'ultimo Mahmoud 21 baudi Mahmoud 21 baudi Vi scrivete Alla Lega Si chiama Crystal League Crystal League Con la doppia L Scritto League E possiamo giocare assieme Io non l'ho ancora fatta La farò Sì sì La farò tra poco Viola devi farlo anche tu Sei costretta Più siamo vicini a Sanremo Ecco Ah lo stai già facendo C'è la cellulare in mano In realtà sta scrivendo i messaggi A sua fidanzata No 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 Ok ok Bravissima 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 Più è divertente Eh sì sì Più è divertente Poi lo diranno anche Le altre trasmissioni Della radio Non è solo nostra Di Good Morning Di tutta la radio Infatti si chiama Crystal League Volevo fare i complimenti A colui che ha fatto il logo Della Della Lega Che è molto bello Sì Ok l'ho fatto io Quanto sono pirla Va bene Ok Ci stiamo avvicinando Stiamo avvicinando A Sanremo Ragazzi Un mese Un mese Un mese Forse anche meno Il sei inizia Mamma mia Come vuole al tempo Quando non c'è Sanremo Ah sì Però c'è la Natale Non c'è la Natale Le tue due colonne della vita Fanno via in un mese Cioè tu da marzo in poi È una tristezza la tua vita C'è il mio compleanno ad aprile Poi basta Basta Quindi se faccio il compleanno ad aprile Sono Cinque Ariete Ariete Che non c'è Sanremo Come fanno le persone a dire Quando sei nato Tot Allora sei cancro Ma cosa ne sai Io sono il cancro perché è il mio Ariete non c'è a Sanremo Ariete quest'anno no C'era l'anno scorso Con Mare di Guai Ok Chi? Non ascoltiamo adesso Non ascoltiamo perché c'è Gloria Gaynor Che non è mai stata a Sanremo No In competizione Poi non lo so Eh sì Si sopravviverà Questo ci dice Gloria Gaynor I will survive 8.48 E dovrò sopravvivere Lorenzo Senza di te Come farò? Esatto Ricordiamo poi in chiusura E siamo in chiusura Per quello te lo stavo dicendo Ma se vedo Sì siamo in chiusura Non devo guardare lì Perché c'è un regalo per te Sul finale poi Quindi non guardare lì Allora Niente ragazzi Vi ricordiamo Se vi siete collegati Un po' più tardi Che da domani Non sentirete più La mia sua dente Voce alla radio Sentirete solo Quella di Fabio Che continuerà In maniera gloriosa A portare avanti Good morning Milano Come abbiamo fatto fino adesso E nulla E nulla Quindi ringrazio Nuovamente Cristal Radio Per avermi dato l'opportunità Di E soprattutto anche Fabio Per parlare banalmente Due ore in FM Tutti i giorni Cosa non da poco Considerando che Io dico sempre Da quando sono in quest'ambito E sono in quest'ambito In particolare Grazie Anzi Esclusivamente Grazie a Milano All News E grazie a Fabio E Ho detto Dico sempre Eh io ho fatto l'alberghiero Quando ripeto Ho fatto l'alberghiero Voglio dire che A un certo punto Ho detto Boh Facendo quello Poi alla fine Non finirò In un posto del genere E invece è successo Ed è successo Grazie A Cristal Radio Grazie a Fabio E in particolare Grazie a Milano All News Quindi Grazie Fabio Grazie per tutta la fiducia Grazie per aver messo Un microfono davanti Spero di aver fatto Decentemente Il mio lavoro Di questi mesi E nulla Eh sì E questo quindi È il finale Allora sapete Che noi Nel finale Prima di tutto Vi ringraziamo Per averci seguito Vi diamo appuntamento A domani Sempre qui Dalle 7 alle 9 Su Cristal Radio Con Good Morning Milano Vi racconteremo Tutto quello Cercherò di fare Il possibile Per sopperire Alla mancanza Arrivano già Anche gli Whatsapp Dove ti salutano Vedo Un ciao Lorenzo In bocca al lupo Che arriva Al 3317853555 A quest'ora Di solito Stiamo chiudendo Stiamo per salutarci Ci salutiamo Anche oggi Sarà l'ultima volta Appunto che Saluteremo Lorenzo Qui con noi Cos'è caduto Cos'è caduto Sotto il tavolo No no Nel senso appunto Lorenzo Ci mancherai davvero Tantissimo Anche voi Sono stati Diciamolo Stati tre mesi Di trasmissione Ma un anno e mezzo Quasi quattro Ma un anno e mezzo In realtà Che ruoti In questi studi E che insomma Hai portato La tua conoscenza La tua bravura All'interno di questo studio Che sicuramente È cresciuto E questa realtà Milano News E Mani Milano E Cristal Radio Sono cresciute anche E soprattutto Grazie Al tuo aiuto Di solito A quest'ora Chiudiamo con una sigla Ma quest'oggi Ho voluto chiudere Con una canzone Che so che ami tanto È dedicata a te È dedicata A tutto quello Che ti porterà Di buono la vita Da qua in poi Da qua in avanti Fuori da questo studio Grazie Lorenzo A voi A domani Grazie a voi